Ciao Betes.it, non c'è cronometro, non c'è tempo quando è tempo di morire ed è arrivato questo tempo anche per Ruth Gerauer, a 75 anni ci ha lasciato, però anche da morto faceva paura, anche da morto recitava da Dio, anche da morto riusciva a sconvolgere, a includere timore in John C. Reilly nei Fratelli Sisters di Jacques Odiar, lo vedevamo lì Ruth Gerauer dentro una bara, morto come Commodoro, morto, eppure nonostante questo John C. Reilly andava e si scagliava contro questa bara, contro questo cadavere dicendo ma perché ti sei comportato in un certo modo? Ruth Gerauer faceva paura anche da morto quando fingeva di essere morto nel bellissimo I Fratelli Sisters di Jacques Odiar, una delle sue ultime grandi prove che abbiamo visto da poco in Italia, è uscito in sala e che era in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia del 2018, che ricordo io di Ruth Gerauer tanti, l'ho intervistato anche una volta a Milano, è stato molto bello, ero molto spaventato, perché quando tu incontri un attore così magnetico ma che poi allo stesso tempo se hai letto due o tre sue dichiarazioni sai anche che è intelligentissimo, senza un filo di vanità, gli attori non sono importanti, gli attori servono solo a vendere i film, io non mi reputo bello, ho gli occhi blu e non somiglio al gobbo di Notre Dame, ma questo non vuol dire che io capisca perché la gente è così affascinata da me. Questa è la Ruth Gerauer, allora quando tu incontri uno così che già è stato l'autore di uno dei monologhi più belli della strada del cinema, l'autore è l'attore ma l'autore, perché lo scrisse lui ragazzi, il monologo del replicante in Blade Runner di Roy Batty, e quando tu incontri uno così che poi non è nemmeno vanitoso come giornalista sei abbastanza preso in contropiede perché ti disinnesca, disinnesca anche i tuoi possibili trucchi per puntare sulla sua vanità. Ruth Gerauer era così, e infatti posso dire che forse le prove che mi piacciono di più di lui sono quelle in cui andava contro quello che era, poteva essere una prima idea che potevamo avere di lui, o che potevano avere i produttori e i registi. La leggenda è Il Santo Bevitore, da Joseph Roth, mi piacque da morire da ragazzino lo vidi adolescente al cinema, perché sapevo che era quello di Blade Runner, ma mi faceva impazzire vederlo così felice e così dentro un ruolo bello, di ubriacone, mezzo criminale, in cerca della redenzione, capace di far l'amore con le donne, mi piace moltissimo, che si portava dietro questi occhi azzurri ma che si vedevano poco in mezzo a tutto l'alcol e la barba sporca e questo senso di ispido, però come sempre magnetico. Uno dei primi che ha reso omaggio a Ruth Gerauer come sempre è stato uno dei più cinefili in mezzo a loro, Guillermo del Toro, che come sapete poi ha un rapporto molto diretto con il fantastico e tutti i componenti di ciò che è stato il cinema fantastico. Un attore intenso, magnetico e genuino, capace di regalare verità, potenza e bellezza a tutti. Ecco, queste sono state le parole molto belle di Guillermo del Toro che come sempre è arrivato per primo e quindi per me in questi casi poi c'è sempre appunto la tristezza ma allo stesso tempo il fatto che Ruth Gerauer sarà sempre vivo con noi, tra noi sarà sempre pauroso anche da morto come nei Fratelli Sisters di Jacques Odiard. È stato un ragazzo scavezzacollo, mise in grossa difficoltà vedere Fiore di Carne di Paul Verhoeven, il grande sodalizio con Verhoeven alla fine degli anni Sessanta per la serie TV che lo lanciò, che lì lanciò insieme poi Fiore di Carne e Soldato d'Orange mi mise in grossa difficoltà, lo vedi da ragazzino e mi faceva paura Howard, sicuramente mi faceva paura e come fa paura anche in Blade Runner, Roy, allo stesso tempo anche Roy ha paura e la sua è una corsa contro il tempo, il tempo di morire, il tempo per provare a capire qual è la sua data di fine, se può cambiarla andando a parlare con Tyrell e quindi è indimenticabile ovviamente quello che ha fatto in Blade Runner, però io vorrei ricordare a questo punto da un punto di vista tecnico la capacità di un attore appunto così poco vanitoso di capire perfettamente che cos'è il cinema? E lui diceva sempre il cinema non siamo noi, un attore bello sul grande schermo sì poi ci intervistano, sì poi diventiamo star, sì poi, ma il cinema è il regista, il cinema è una serie di componenti, noi siamo un pezzo e che bella in tutta quella produzione così difficile dove Ford e Scott non legarono, non lo sapete benissimo particolarmente, quanto legarono, ci pensavo proprio ieri quanto legarono e quanto deve essere stato bello in quel caos, questo solo il cinema lo può fare il sodalizio tra Ridley Scott e Rutger Auer, loro sì che si sono capiti in quel momento e Auer dice è il miglior regista con cui ho mai lavorato e è come se entrammo in sintonia a un livello istintivo su quello che si poteva fare con Roy ed ecco a questo punto la libertà che Scott concede raramente a un attore addirittura di prodursi in una scrittura per questa parte così importante che deve essere il monologo di Roy davanti a Descartes alla fine sui tetti verso la fine di Blade Runner. Allora ho ripensato molto a che grande uomo di cinema è stato Rutger Auer che ha fatto una marea di B-movie, nel 2001 girò sette film, ha fatto anche dei film molto brutti, io amo gli attori che fanno anche i film molto brutti perché fanno parte della vita ed è come se riconoscessero che non siamo indistruttibili, non sono indistruttibili e che il cinema è così grande che ti ci puoi anche perdere dentro andando a fare cose un po' meno belle rispetto ad altre e Rutger Auer è uno che ha fatto anche i film di serie B, di serie Z, però sempre con appunto questa sua bellissima faccia, per alcuni spaventosa, se vedete la leggenda del santo bevitore è dolcissimo, recuperate il film di Erman Olmi perché è un Rutger Auer che non avete mai visto ma io me lo ricordo anche quanto era bello, quanto gli volevo bene, quanto volevo volergli bene in Lady Hook di Richard Donner, volevo volergli bene, è proprio l'espressione giusta perché è un film splendido è un fantasy stupendo, girato peraltro anche in Italia, con Matthew Broderick e Michelle Pfeiffer è un film che io amo moltissimo e che vedi da bambino quando amavo il fantasy tantissimo anche ora, ma forse all'epoca lo amavo anche di più e io amavo Rutger Auer e quindi amavo vederlo finalmente in questa storia così romantica, così bella, legata alla magia e anche alle sofferenze alle trasformazioni corporee e a quest'amore che lui portava avanti con tale forza e compostezza e maestria lui diceva non mi interessa se è un personaggio buono o cattivo, l'importante è che sia magico io penso che l'autostoppista di The Itcher sia uno degli psicopatici più magici, più garruli questo suo sorriso, questo sorriso che faceva questo ghigno divertito, questo sguardo come era penetrante, come era irresistibilmente sexy questo autostoppista psicopatico di The Itcher e allora Rutger Auer è anche Sin City è diventato una barca ma da giovane era anche un uomo libero del mondo, magrissimo è stato uno scavezzacolo da giovane però anche molto colto, è stato un ribelle, un vero ribelle e si è ribellato alla vanità dell'attore ha sempre esercitato una grande intelligenza, un grande sguardo che non era solo un occhio azzurro, era lo sguardo di un uomo intelligente e quindi gli attori, nel caso di Ruth Grauer, nel cinema e per il cinema secondo me sono, non gli do ragione, molto molto importanti grazie a tutti grazie a tutti